Ciao amici, un brevissimo video per darvi una super notizia che mi ha lasciata incredula ma contentissima. La faccio breve, gli amici di RTL 125 News mi hanno invitata per una diretta domenica mattina dalle 7 e mezza alle 8, quindi sarò in diretta, mi potrete ascoltare sulla radio digitale, vi lascerò poi tutti i link nei prossimi giorni, è comunque sul sito web di RTL 125 e anche in radiovisione, quindi sarò anche in video su Sky, credo canale 737. Vi lascerò poi ulteriori dettagli in descrizione e su Instagram, sono super mega emozionata, sto usando un sacco di super lativi, non ci credo. Mi hanno contattata, mi hanno chiesto se volevo fare una diretta con loro per parlare un po' di studio, crescita personale, produttività del mio progetto su YouTube, della mia vita all'estero, delle mie esperienze, quindi per approfondire un po' alcuni degli argomenti che già tratto su YouTube e su Instagram e sul blog. Niente, ci tenevo a dirvelo, condividerlo con voi, sono molto felice della direzione che sta prendendo questo mio progetto. L'episodio sarà registrato e poi sarà disponibile sul sito di RTL 125 come podcast e credo anche visibile poi come video nei giorni successivi, quindi chiaramente se qualcuno di voi si vuole alzare presto e guardarlo in diretta alle sette e mezza è benvenuto, altrimenti rimarrà comunque caricato e se vorrete potrete guardarlo in un momento successivo. Sono molto felice di condividere questa cosa con voi, vi ringrazio ancora per il fatto che mi avete seguito per così tanto tempo e che vi ringrazio per la bellissima community che abbiamo, vi abbraccio fortissimo e ci vediamo nei prossimi video e ovviamente ci sentiamo su RTL 125 News.